Tares, Ivi e Tobin Tax. Non solo rincari, il 2013 porta con sé anche tre nuove tasse che guardano soprattutto alla casa e agli investimenti finanziari, che peseranno nelle tasche dei contribuenti italiani e che faranno salire il livello della pressione fiscale dal 44,7% dell'anno appena concluso al livello record del 45,3%. La prima a scattare sarà l'Ivi, l'imposta che si paga sul valore degli immobili all'estero. A marzo sarà poi la volta del debutto della Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, mentre ad aprile arriverà la Tares, la nuova tariffa sui rifiuti che sarà calcolata sulla grandezza degli immobili e che assorbirà la tassa di igiene ambientale. La Tares, che prevede il pagamento di quattro rate complessive e toccherà ai comuni mettere a punto le nuove tariffe, sarà sicuramente più cara della Tarzu, perché si tratta di una tariffa e non di una tassa, vale a dire un prelievo che copre per intero sia il costo che l'amministrazione sostiene per effettuare il servizio di raccolta della nettezza urbana, sia il costo di altri servizi, come la gestione dei rifiuti e gli altri cosiddetti servizi indivisibili, come illuminazione pubblica e manutenzione stradale. A pesare sui portafogli dei contribuenti sarà poi anche l'IVA, che a luglio vedrà l'aliquota salire dal 21 al 22%. Nota di consolazione, sul fronte fisco ci saranno per fortuna anche alcune note positive. Fino a giugno sarà possibile usufruire di maggiori sconti sui lavori di ristrutturazione e scattano i nuovi sconti per i figli a carico. C'è poi l'aspettativa di un calo delle tasse su famiglie ed imprese. Il fondo per il calo delle tasse arriva dal 2013 e sarà rimpinguato con la lotta all'evasione, che vedrà in campo il nuovo redditometro.